antonio porta bande sonore radio music e poesie dall'aria della fine lettura dell'autore ancora una volta mi chiedi che cos'è il silenzio ti rispondo ridendo e sono 18 piccole frasi o appunti o segnali tracciati intorno al silenzio e di me ti prego conserva un piccolo ricordo silenzioso eccomi cancellare o subire la tirannia del tempo rifiutare o accettare una necrotica dimensione della storia conquistare o fingere di non avere visto lo spazio che prepara l'apparizione di una foglia un cespuglio fiorito una rosa rampicante bucare o brucare lo scenario del verde lì consistere nel verde che si produce oltre il verde questi i miei dubbi teneteli per voi per il momento mentre mi affido a un invisibile servizio postale grazie grazie grazie